Musica Mondo Convenienza amplia la sua rete commerciale a Roma, con l'apertura del nuovo showroom in via Aurelia, che propone un concept architettonico ed espositivo completamente rinnovato. Le novità sono questa apertura di questo nuovo punto vendita, ci siamo trasferiti, il punto vendita di Roma Aurelia per noi era sempre stato molto importante, lo abbiamo reso ancora più importante nella metratura perché siamo cresciuti parecchio e quindi abbiamo dato l'opportunità ai clienti di avere una scelta un po' più ampia, proprio perché l'esposizione ci consente di avere prodotti nuovi, esposti anche in una chiave più moderna e più coerente con quella che è la strategia attuale, sia commerciale che di marketing dell'azienda. In occasione dell'inaugurazione del nuovo punto vendita, i visitatori avranno a disposizione gratuitamente il Luna Park, con ruota panoramica, gonfiabili, cinema virtual 5D, fotobot e area degustazioni. La famiglia, i bambini che hanno un Luna Park completamente gratuito a loro a disposizione, si inserisce proprio in un contesto sociale che ci piace, che ci sia, le famiglie devono star bene, diamo e vogliamo che loro si sentano a loro agio nel nostro ambiente, per cui per noi quello che è importante è che la famiglia, i bambini abbiano evidentemente un loro modo di intrattenersi, lo facciamo regalando loro dei gadget, regalando loro delle emozioni, del divertimento, senza volere nulla in cambio in realtà, quello che vogliamo è che partecipino con noi a questi nostri momenti di successo. Nell'area espositiva sono presenti tutte le categorie merceologiche, 40 stand di camere da letto e 11 di camerette, per bambini per un totale di 989 metri quadri. Questo può essere solo il via affinché tutti gli altri punti vendita possano essere come questo? Assolutamente sì, pian piano poi crescendo noi ci muoviamo e abbiamo questi momenti di intrattenimento e ci piace che ci siano e che siano forti e che siano coinvolgenti per le famiglie. Adesso non ci resta appunto che sentire le famiglie cosa pensano di questa novità? Assolutamente sì, grazie. Si è fatta una foto, ha ricevuto dei gadget, inaugurazione di questo nuovo punto vendita, che cosa ne pensi? Beh, è una cosa fantastica, anche perché non avrei mai immaginato un'accoglienza così calorosa nei confronti dei clienti. Sono stata attratta da pialloncini mentre passavo e allora sono entrata e mi sono sorpresa perché ho trovato delle cose bellissime, un ambiente molto dinamico, molto giovanile. Passavo per caso, sono qua da Milano per lavoro, ho visto il movimento, mi sono fermato per dare un'occhiata. Sono appena entrato, mi sembra comunque molto bello, molto curato l'ambiente. La novità del Luna Park? Un suo punto di vista? Mi sembra interessante quello di coinvolgere le famiglie, preoccuparsi dei bambini di modo che il possibile acquirente abbia il tempo di dedicare con più tranquillità gestendo i bambini con i propri ritmi. E' veramente fantastico il lavoro che hanno fatto, sono stato qui due giorni fa, era completamente diverso, veramente bello. Un po' un casino oggi per fare gli acquisti, però bello. Bello, bellissimo, accogliente, c'è tutto, c'è tutto. E la novità? Anche dedicata magari per portare anche i suoi nipoti, lasciarli giocare mentre lei può andare in giro tranquillamente. Eh beh, è una cosa buona, è bella. Ma io stamattina sono andata sulla ruota panoramica, anche noi, eh. Vale anche per noi nonni, non solo per i nipoti. Ah, interessante. Tra l'altro mi sto qua anche divertendo. Sì, ho anche il nipotino con me, per cui tutte e due ci stiamo divertendo. Ma è venuto solo per l'egucino, per portare il nipotino in questo nuovo parco giochi? Io abitando da queste parti avevo visto tutto questo marchigegno che stavate organizzando. E allora, per curiosità, comunque sono anche cliente di già della vostra casa. Grazie a tutti.